da coloro che per questo mese e mezzo mi sono stati vicini quasi 24 ore al giorno. Ringrazio i tanti candidati delle liste che si sono battuti per cercare di portare consensi e voti alla coalizione. Ringrazio i tantissimi cittadini che negli incontri che abbiamo fatto mi hanno dimostrato sostegno, calore, stima, rispetto, affetto perché tutto ciò è servito a ottenere il tono alto e civile al tempo stesso di una campagna elettorale che complessivamente credo sia stata tale. Per quel che mi riguarda devo però dire che quando si perde si perde io stesso in campagna elettorale senza esitazione ho detto che in un sistema maggioritario si vince o si perde per un punto io ho perso per molti punti e quindi quando si perde è sempre il comandante in capo dell'esercito che si assume la responsabilità della sconfitta. Se si è perso evidentemente prima di ogni altra considerazione vuol dire che la mia persona e la mia proposta programmatica non sono stati sufficientemente convincenti per i piemontesi e di ciò io mi assumo piena la responsabilità.